L'anguato a colpi di pistola avvenne accontrato a quattro grana di Avellino il 19 ottobre del 2021. Nel mirino di un commando, secondo gli inquirenti, c'era un 26enne del posto per la procura e gruppo armato, si era recato a casa del giovane per tentare di ucciderlo. Le cinque persone arrestate all'alba nel corso di un blitz dai carabinieri sono infatti gravemente indiziate allo stato delle indagini preliminari di tentato omicidio in concorso, minaccia aggravata, detenzione, porto abusivo di armi e strumenti atti all'offesa. L'ordinanza di custodia cautelare in cacere è stata emessa dal GIP e su richiesta della procura della Repubblica di Avellino. Impegnati nell'operazione anche le unità cinofile dei nucleo carabinieri di Sarno, incursione criminale è accontata a quattro grana, così come ricostruito dai carabinieri, avvenne in tarda mattinata. Sotto la casa del 26enne, come accertato dagli investigatori sul posto, intervennero anche gli agenti di polizia. Piombarono un furgone, due auto con a bordo il gruppo armato di spanghe di ferro e mazze di baseball. Una volta scesi dai mezzi, gli autori del raid circondarono i giovani, probabilmente per impedirgli la fuga, mentre uno di essi gli sparava contro alcuni colpi di pistola calibro 7,65. Una rapfica di proiettili che solo per caso non avrebbe attinto la vittima, la quale riusciva fortunosamente a sfuggire all'attentato e a lanciare l'allarme telefonando al 112. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Avellino, con il supporto tecnico dei militari del comando provinciale, hanno consentito di identificare i presunti aggressori nei cinque destinatari delle misure cautelari. Nel corso delle perquisizioni domiciliari, a casa degli indagati, i carabinieri hanno anche sequestrato una pistola e un taser. Si tratta di due soggetti di Mercogliano, due di Atripalde, uno di Avellino, dai 28 ai 40 anni. Per gli inquirenti la motivazione del raid sarebbe da mettere in relazione con alcuni episodi di violenza, verificatisi alcuni giorni prima presso un locale notturno di Avellino, l'Ultrabit, in via Cannaviello. Le cinque persone arrestate avrebbero quindi agito nei confronti del ventisenne per ritorsione, organizzando l'agguato a mano armata in pieno giorno e danni del soggetto da punire col sangue sotto la sua abitazione.